Meditazione anti-ira dei tre minuti. Ti prego di leggere le indicazioni prima di intraprendere questa pratica. Grazie. Portati in un luogo tranquillo, il solito. Indossa le cuffie se vorrai. Adotta una postura dignitosa, seduta o in piedi, a tua scelta. Possibilmente chiudi gli occhi, metti in pausa e riparti quando sarai pronto. Fase 1. Diventa consapevole. Mentre porti l'attenzione sul tuo respiro, chiediti mentalmente cosa sta accadendo nella mia mente. Quali pensieri mi attraversano? pensano. Pensa a delle nuvole nere che stanno transitando sopra di te e che si allontanano. Pensa ai tuoi stati d'animo, sentimenti e emozioni. Quali sensazioni provi ora? Osservale, senza cercare di cambiare nulla. non giudicare. Rimani su te stesso, sul tuo respiro. Tutto passa e tutto torna alla normalità. La quiete arriva sempre dopo ogni tempesta. Fase 2. Raccogliti in te stesso. Mantieni l'attenzione al tuo respiro e osserva l'addome che si muove. Conta dieci respiri lunghi. Continua ad essere nel momento presente. Fase 3. Ti espanderai. Espandi ora la consapevolezza oltre il respiro, portandola alla sensazione del nostro corpo nel suo insieme. Pensa alla tua postura, alla tua espressione facciale, la tua posizione nello spazio. Se noti aree di tensione, non giudicarle e non cercare di cambiarle. Rilassati e apriti. Respiro dopo respiro. Prova ora ad espandere la tua consapevolezza allo spazio che ti circonda. Serviti di tutti i tuoi sensi. Ok, hai terminato. Sono passati solo tre minuti. E sei pienamente consapevole di te stesso. Le nubi sono ormai passate ed è tornato il sereno. Apri pure gli occhi e puoi tornare le tue faccende. Ricorda che io sarò sempre qui. Ogni volta ne sentirai il bisogno. Ciao da Tony. Ciao da stile. Ciao. Ciao da tutti. Ciao da tutti. Ciao da tutti. Ciao da alle нашلة. Ciao. 節 diffic profile. Ho poto. Ciao da tutti. ��am一人. esc знare la ricerca. emasi, ciò.